...arrivare il Movimento 5 Stelle in Parlamento alle prossime elezioni politiche di febbraio, una corsa alla quale le ultime novità della scena politica nazionale hanno impresso una forte accelerazione che hanno portato Grillo a promuovere personalmente la raccolta. Dopo Bolzano l'ex comico è arrivato questo pomeriggio a Trieste e questa sera sarà Udine in piazza San Giacomo e atteso proprio tra poco. Allora sentiamo il servizio di Alessandra Zigaina. Dovrebbe arrivare, è stato... ecco. Per una volta dico se i organizzatori sono d'accordo sui numeri. A sentire Grillo in piazza della Borsa c'erano almeno 2000 persone, anche se la sua venuta a Trieste è stata annunciata via web solo il giorno prima. Non so perché siete così in tanti, l'avete saputo da cosa... L'avrà mica pubblicato il picco aglio. A tenere banco nel comizio ancora Rigor Montis, come Grillo chiama il premier, curatore fallimentare del paese. L'onesto Menusconi ha detto non vedo l'ora di stare con Monti. Bersana ha detto anch'io non vedo di stare con Monti. Al centro i moderati, tutto, vogliono stare tutti con Monti. E allora che crisi c'è? Se l'è fatta da sola la crisi? Se si vogliono bene tutti con Monti che va bene, perché accorciare a febbraio e non ad aprile? Perché? Forse perché ci sono io. Siamo gli unici che dobbiamo prendere le firme, loro le firme se le fanno in 4-5 dentro i palazzi. In un giorno il Movimento ha raccolto più della metà delle 4.000 firme previste per il Friuli Venezia Giulia, dove i candidati sono 13 per la Camera e 7 per il Senato. Davanti a un pubblico intirizzito, Grillo riassume alcuni punti chiave del suo programma. Via le province, riforma delle regioni, sanità pubblica, salario di cittadinanza per due anni, cemento zero e replica a chi critica i candidati per i quali si stanno raccogliendo le firme di inesperienza politica. Chi c'è il miglior politico di una mamma di tre figli che fa andare avanti la sua famiglia senza farla fallire? Chi c'è? E che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire essere politico? Cosa vuol dire essere un politico di esperienza? Che cosa vuol dire? Vuol dire essere di esperienza nei talk show? Sapere come comportarsi nel talk show con i tuoi servi giornalisti?